Sensibilizzare i ragazzi delle scuole elementari e medie della città a conoscere il territorio del centro storico ed osservare l'ambiente in cui vivono. Questo è l'obiettivo del concorso Take Action Together, intitolato Trove il bello che è in città, Caltanissetta e Nunchak. L'iniziativa, portata avanti dagli scout della zona Castelli del Nissano, ha visto la realizzazione di alcuni video aventi come soggetto gli scorci più caratteristici del centro storico da parte degli studenti delle scuole elementari e medie della città. I video premiati verranno utilizzati come spot pubblicitari per far riflettere ai cittadini sull'importanza del rispetto dei luoghi in cui si vive. 8 i premi assegnati, 3 per gli studenti delle elementari, 3 per quelli delle medie e più 2 premi della critica. Per la scuola elementare il primo premio è andato alla quarta B dell'Istituto Lombardo Radice, seguito dalla quarta A della Santa Maria Mazzarello, vincitore anche del premio della critica e della terza C della Don Milani. Per le scuole medie è primo premio alla prima C della Giovanni Verga, secondo e terzo premio rispettivamente della seconda C della San Giusto e della prima D della Rosso di San Secondo, mentre il premio della critica è stato assegnato alla prima A della scuola media di Santa Barbara. Together è stato anche il concorso che abbiamo avviato tramite tante associazioni di calta insetta, associazioni di migranti e associazioni che si occupano di teatro qui nella nostra città. È stato bello vedere qui ieri sera al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate tante diverse associazioni che sono state qui a festeggiare un momento di integrazione. Non abbiamo voluto parlare di multiculturalità, ovvero di tante culture messe assieme, ma di interculturalità, un'integrazione tra le culture, affinché ognuno ha portato se stesso, ha portato le proprie tradizioni, ha portato tramite una danza, un canto, un video, la propria nazionalità. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo questa nostra proposta, accompagnati dalle insegnanti sono andati infatti per le vie del centro storico a trovare proprio quello che per loro poteva essere considerato bello. Uno degli obiettivi del concorso era proprio quello di far conoscere il proprio territorio ai ragazzi e di pensare a un progetto che potesse riqualificare e dare valore a quello che potrebbe essere un elemento del territorio che loro hanno voluto proprio riprendere.